Cresce la preoccupazione da parte dei lavoratori della Betafense di Tortoreto, a rischio ci sono ulteriori 60 posti di lavoro, condizione che fa tornare indietro nel tempo la problematica che sembrava risolta mesi fa. Il timore dei sindacati è che l'azienda che produce sistemi di recinzioni all'esito di questi ulteriori 12 mesi di contratto di solidarietà possa cambiare pelle e prospettive, tornando alla volontà di trasformare il sito produttivo in semplice officina o pollo logistico. Una vicenda su cui l'assessore regionale delle politiche del lavoro, Pietro Quaresimale, ha annunciato che in settimana ci sarà un incontro con i vertici dell'azienda. Abbiamo fatto il gioco del logo e siamo ritornati al via praticamente, dal famoso annuncio di luglio 2020, dove ci annunciarono che il sito sarebbe rimasto con un manipolo di persone, circa una cinquantina, è uscito fuori che ci sono ancora 60 induberi, nonostante la fuoriuscita di altre 31 persone dal 2020. Quindi 60 più 31 fa 90, quindi siamo ritornati al punto di partenza, in un piano industriale successivo, dove loro ci avevano indicato una ristrutturazione che avrebbe coinvolto e fatto rimanere in azienda 85-80 persone, siamo ritornati veramente indietro. Quindi la questione è tornata ad essere prioritaria ed è tornata ad essere importante per noi rimanifestare questo disagio all'interno della beta, dove non ci si capisce niente a tutt'oggi. Siamo pronti a risotterrare l'ascia di guerra, sì, ma stiamo adesso aspettando la diatriba che c'è stata in questi giorni con la politica, dove ha convocato un tavolo senza le parti sociali, stiamo aspettando l'epilogo dell'assessore quarisimale che ha coinvolto l'azienda e ci faccia sapere finalmente che cosa intendono fare. A nostro avviso non basta parlare di formazione, perché fare la formazione a chi? A chi fare la formazione se le macchine vengono portate via e vengono dismesse le attività produttive? Quindi è inutile fare formazione a persone che sono in più. Bisognerebbe capire e coinvolgere una volta per tutte, io lo dico da tempo, perché chi tesse le fila continua a stare a Londra. Quindi noi stiamo parlando con persone qui nella proprietà di Tortoreto che prendono ordini da Dino Cutrochi, che è il responsabile della Presidiat, il CEO della Presidiat, che ha deciso tutto il da farsi. Quindi bisognerebbe convocare questo signore per capire dove vuole portare il sito di Tortoreto. Altrimenti continueremo a fare chiacchiere e a perdere tempo fino a che il sito non sarà dismesso completamente e depoperato.